Sai qual è il colmo per il genitore di un neopatentato? Intestare l'assicurazione al proprio figlio sperando di risparmiare. No vabbè, non dirmelo. Stavi davvero pensando di farlo? E che pensi di renderlo più responsabile con un gesto del genere? Dai red ad un semplice assicuratore di Torre Maura. Intestare l'auto ad un giovane neopatentato è una scelta che va fatta con consapevolezza. Con la consapevolezza che questa scelta potrebbe farvi spendere fino a 1000€ in più del previsto. Che poi va bene responsabilizzarlo, però neanche fargli pagare un'assicurazione auto come un mutuo. Per responsabilizzarlo qui gliela stai facendo pagare per qualcosa. Quando un giovane neopatentato si presenta alle porte di una compagnia chiedendo di assicurare la sua prima macchina, crescidati di una classe 14 o di un bersani in prima classe, quindi lo scenario migliore, alle compagnie scattano gli allarmi e il prezzo li evita. Il motivo di questa reazione è dovuto alle statistiche. Le tariffe RIC auto si basano sul rischio e le statistiche aiutano le compagnie a riconoscere il rischio che si trovano di fronte in quel momento. E cosa dicono le statistiche riguardo ai neopatentati? Parlano di uno stile di guida ancora insicuro e a volte anche spedicolato, di un'altra probabilità di sinistro nei primi tre anni di assicurazione e della prospettiva per le compagnie di spendere più di quanto riescano ad incassare con i premi. Mettete tutti questi ingredienti nel calderone della tariffa RIC auto ed ecco lì che esce fuori il premio mostruoso. La soluzione è presto detta, intestare l'auto ad un genitore oppure comunque ad una figura adulta e prevedere una tariffa che preveda la guida libera. In questo modo la figura anagrafica non spaventerà la compagnia ed il premio si abbasserà di conseguenza. E se proprio siete obbligati ad intestare l'auto al vostro giovane figlio neopatentato e vabbè, troveremo la soluzione. Qualunque sia la tua scelta, ricorda che da me puoi trovare la soluzione più economica e vantaggiosa. Avanti su, clicca qui e chiedimi un preventivo. Ti aspetto!